Musica Aiuterà le famiglie bisognose a comprare cibo e medicine o a pagare le bollette, sostenendo redditi da lavoro insufficienti e chi un impiego non ce l'ha. Arriva anche a Napoli la Social Card, misura finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite l'Inps e con il supporto di poste italiane. È una sperimentazione che il Ministero ha dato la possibilità di attuare in 12 città italiane e Napoli è una di queste città. Partirà adesso proprio l'avviso pubblico che darà la possibilità alle famiglie di partecipare fino all'8 agosto, quindi cominciata dall'8 luglio all'8 agosto e prevede un sostegno concreto alle famiglie che abbiano all'interno del loro nucleo problematiche inerenti alla perdita del lavoro in particolare. Infatti è una misura messa a disposizione proprio delle famiglie che vivono in questo momento di crisi, soprattutto legato al lavoro. Con una delibera digiunta il Comune l'adotta in via sperimentale per un anno. Da oggi e fino all'8 agosto se ne potrà fare richiesta esclusivamente online o recandosi presso le sedi dei CAF convenzionati senza alcun costo per i cittadini. Tra i requisiti ci sono la residenza nel Comune di Napoli da almeno 12 mesi per cittadini italiani e anche stranieri. Le famiglie con un'Ise pari o inferiore ai 3.000 euro, almeno un componente minorenne, un componente che negli ultimi 36 mesi abbia perso il lavoro o abbia cessato un'attività improprio, oppure che attualmente abbia un lavoro dipendente con un reddito di lavoro che non supera 4.000 euro negli ultimi sei mesi. L'avviso pubblico con i requisiti stabiliti dal Ministero e vincolanti per i Comuni e l'elenco degli sportelli presso cui ricevere assistenza sono consultabili sul sito del Comune e disponibili presso le sedi URP delle 10 municipalità e di centri di servizio sociale e territoriale. Subito verrà fatta, grazie ad una piattaforma informatica del Comune, verrà fatta una gradatoria in tempi molto brevi. Grazie.